Circonferenza Vogliamo trovare le equazioni delle circonferenze di centro C alfa beta e tangenti rispettivamente all'asse delle ascisse e all'asse delle ordinate. Per aiutarci a visualizzare la consegna dell'esercizio, scegliamo un punto qualsiasi sul piano cartesiano. Poi rappresentiamo la circonferenza che ha centro in quel punto e tangente all'asse delle ascisse. E infine rappresentiamo la circonferenza con lo stesso centro e tangente all'asse delle ordinate. Dopo aver visualizzato il problema, cerchiamo l'equazione delle due circonferenze. Siccome il loro centro è il punto C alfa beta, la loro equazione sarà della forma x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale a r al quadrato. Quindi l'unico parametro da determinare per ciascuna equazione è il raggio r. Iniziamo a studiare il primo caso in cui la circonferenza è tangente all'asse delle ascisse. Dal grafico vediamo che il raggio della circonferenza è la distanza tra il centro C alfa beta e l'asse delle ascisse. Questa distanza è pari a beta, l'ordinata del centro, quindi anche il raggio della circonferenza è uguale a beta. Possiamo quindi scrivere l'equazione della circonferenza, che è x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale a beta al quadrato. Svolgendo i calcoli, otteniamo l'equazione riportata sul libro. Annotiamoci la formula ottenuta, che ci servirà per svolgere l'ultima parte dell'esercizio. Possiamo affrontare il secondo caso, quello in cui la circonferenza è tangente all'asse delle ascisse, utilizzando lo stesso metodo. Dal grafico vediamo che il raggio della circonferenza è la distanza tra il centro C alfa beta e l'asse delle ascisse. Questa distanza è pari ad alfa, l'ascissa del centro, quindi anche il raggio della circonferenza è uguale ad alfa. Possiamo quindi scrivere l'equazione della circonferenza, che è x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale ad alfa al quadrato. Svolgendo i calcoli, otteniamo l'equazione riportata sul libro. Annotiamoci la formula ottenuta, che ci servirà per svolgere l'ultima parte dell'esercizio. L'esercizio chiede infine di determinare in quale relazione devono essere alfa e beta affinché le due circonferenze coincidano. Se confrontiamo le formule, vediamo che l'unica differenza è il termine immediatamente a sinistra dell'uguale, che nella prima formula è beta al quadrato, mentre nella seconda è alfa al quadrato. Affinché le due formule siano uguali, è necessario quindi che beta al quadrato sia uguale ad alfa al quadrato, cioè che beta sia uguale a più o meno alfa.